Pennerello in mano e cartina d'Italia tracciata in lungo e in largo con tutti gli sviluppi possibili che arrecherebbe l'arretramento della ferrovia o la rinuncia ad essa. A Palazzo Montagna Antaldi Matteo Ricci riunisce gli stati generali delle infrastrutture per spiegare l'occasione d'oro di puntare allo sviluppo e scongiurare l'isolamento con abbondanti critiche alla politica regionale in merito. Che idea si ha di sviluppo se il problema è quello che potrebbero arrivare troppi treni che non sono quelli che hanno detto ma sono 5 in più al giorno? Quando il problema è che qui non passa più nessuno, vi è chiaro che non passa più nessuno? Che idea di sviluppo si ha per le aziende? Per il porto d'Ancona, il porto d'Ancona per il quale abbiamo ottenuto dei fondi del PNRR per il potenziamento devono entrare e uscire le merci dal porto d'Ancona oppure no? Vogliamo continuare ad investire esclusivamente sul trasporto su gomma che intarda la via adriatica con i tir? Dal punto di vista ambientale è meno inquinante un treno e meno inquinante i tir? Io sono davvero, scusate se ogni tanto mi scando adesso riabbasso i toni sono sbigottito perché non c'è una logica di sviluppo. Tema ferrovie ma anche strade e fondi PNRR sviscerati da degli stati generali che hanno visto il coinvolgimento e in gran parte l'assenso alla linea Ricci di sindacati, università di Urbino e associazioni di categoria. Ma in tutto ciò dobbiamo fare attenzione insomma a non dividerci a livello regionale a cercare di trovare un punto in comune e a provare anche a chiedere qualcosa di più di quello che ci hanno proposto per magari allungare questo arretramento non solo su Pesaro ma magari riuscire a ottenerlo anche per un altro tratto delle Marche con magari l'impegno anche poi a proseguire su tutta la regione perché forse questo è il momento in cui noi possiamo veramente ottenere una cosa molto importante molto importante per Pesaro ma soprattutto per tutta la regione anche perché siamo la via di passaggio verso il continente Africa che probabilmente nei prossimi 10-20 anni sarà il fulcro dell'economia perché la Cina è arrivata in Africa, è piena di materie prime, c'è tanta mano d'opera per cui noi siamo il collegamento fra l'Europa e l'Africa. Penso che siamo in un momento storico in cui forse come non mai ci sono tutte quelle risorse che permetteranno di costruire non soltanto la città di Pesaro ma anche tutto un territorio per i nostri nipoti perché per i nostri figli siamo già in ritardo, ci ha già pensato qualcun altro possiamo prendere quelle decisioni strategiche che ovviamente aiuteranno tutti a vivere meglio e assolutamente chi ha deciso di intraprendere perché senza le infrastrutture un territorio come il nostro che ormai da tanti anni vive un isolamento abbastanza evidente è difficile e sarà molto difficile fare sviluppo. È un progetto sul quale siamo molto favorevoli a condizione che ci sia un quadro d'insieme del sistema infrastrutturale della nostra provincia almeno crediamo poco nell'arretramento solo per quanto riguarda la città di Pesaro che non risolverebbe i problemi della viabilità e della infrastruttura della nostra provincia e probabilmente creerebbe altri problemi perché deviare da dopo Gradara per fare un percorso alternativo all'attuare ferrovia e poi rientrare a forse sei ore facendo uno sconquasso da punto di vista ambientale con stazione sopraelevata e riconfermando su Fano, su Marotta, su Mondolfo, su Senegaglia gli stessi problemi ci pare inutile nel senso che fosse una infrastruttura che serve alla popolazione, ai cittadini, ai pendolari e saremmo anche d'accordo è invece un'infrastruttura che serve al trasporto merci io credo che si debba cominciare da Pesaro e quindi non abbandonare il miliardo e duecento milioni circa che sono disponibili o comunque i cinque miliardi che sono stati previsti nel bilancio dello Stato ma prevederlo, immaginarlo come l'inizio di un percorso che almeno per tutta la provincia preveda l'arretramento ferroviario